E' un pratese! Eeeh, andiamo, faici passare! Sortite da queste rotonde Ci sta da arrivare a Prato della Pistolese C'è Pistolese Prato, gli si va a fare il culo a questi cinesi Ma che vuoi mettere la pezzone con la carvara? Tutta a salè! 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 Eeeh, un pratese? Eeeh, Nanni, vieni qui ti può sentire i confetti altro dei cantuccini, vuoi vedere che ti metto i cantuccini Vieni qui, andiamo ragazzi C'è uno di Prato! Sì, questi sono fissati Ma che vuoi mettere la sala con Piazza Mercatale, eh? Andiamo ti porti a mangiare un carcerato, ommi!